Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno e ben ritrovati oggi, sabato 27 di febbraio, insomma tra una cosa e l'altra siamo arrivati anche a questo fine mese, insomma come corre questo tempo, corre velocissimo. Allora il santo di oggi, lo vediamo subito, oggi è San Gabriele della Dolorata che in realtà si chiamava Francesco Possenti ed è nato ad Assisi nel 1838. Il padre era un alto funzionario dello Stato Pontificio, la mamma muore molto quando il bambino aveva solo sei anni. Poi San Gabriele si trasferisce all'isola di Gran Sasso in Abruzzo, diventa sacerdote, purtroppo si ammala nel 1861, si ammala di una tubercolosi polmonare che in breve tempo lo porta alla morte. Ma Gabriele viene proclamato santo, con patrono della gioventù cattolica italiana e patrono dell'Abruzzo. Ancora oggi milioni di persone si recono nel suo sepolcro. Il sole è sorto alle 6.48 e tramonterà alle 17.53. Il cielo oggi sarà parzialmente nuvoloso, con precipitazioni locali, con piovaschi o brevi rovesci, più probabili nel corso del pomeriggio o della sera. Le temperature sono stazionari e un lieve aumento, in particolare nei valori massimi. Il mare inizialmente sarà poco mosso, poi il moto ondoso sarà in rapido aumento. Per domani, domenica, avremo un cielo parzialmente nuvoloso e domani mattina avremo anche possibili deboli locali precipitazioni nei settori montani. Nel corso del pomeriggio questi fenomeni saranno in intensificazione ed estensione al resto del territorio regionale. Quindi mattinata pioverà nell'entroterra, il pomeriggio invece di domani, domenica, arriverà la pioggia, vedete, su tutta la regione e quindi anche sulla costa. Le temperature sono in ulteriore lieve aumento, soprattutto quelle minime. Lunedì 29, l'ultimo giorno del mese, ecco il tempo che migliora, si fa per dire, nel senso che non pioverà. Le precipitazioni saranno soltanto residue durante la mattinata, soprattutto nell'entroterra. Poi il pomeriggio invece smetterà di piovere. Il limite delle nevicate sarà attorno ai 1300 metri sui Sibillini. Il venti sono sud occidentali, il mare sarà molto mosso, poi con il moto ondoso in progressiva attenuazione. Per la giornata di martedì sono previste deboli e locali precipitazioni al sud. Mercoledì, le condizioni di bel tempo si estenderanno invece a tutta la regione. Apriamo il messaggero, cominciamo dalla pagina di Pesaro del messaggero. Allora, sull'abusivismo, i cosiddetti Vucumpra, o comunque i parcheggiatori abusivi, coloro che cercano di venderti di tutto e di più. Allora, il sindaco di Pesaro, anzi il comandante della polizia municipale di Pesaro, bisognava agire in qualche modo. Guerra all'accattonaggio. Il comandante spiega come si applicherà l'ordinanza, quella del sindaco di Pesaro, più che ad elevare le multe, si punterà soprattutto a sequestrare e a confiscare la merce, che è la cosa che spaventa di più, diciamocelo francamente, i venditori, perché poi comunque devono pagarla e quindi per loro è un danno enorme. Poi, lo vedremo anche all'interno dei quotidiani, una tabaccaia che è stata rapinata in centro a Fano, ha inseguito il ladro e lo ha fatto catturare. Poi, con il furgone a riete invece, con la testa di a rete, hanno sventrato la cassa di un self-service in un distributore in zona Montefeltro. Allora, andiamo a vedere subito le pagine interne. Ecco qua il titolo, fenomeno in crescita, si doveva agire. Parla il comandante Gianni Galdenzi, prima informeremo, poi esiguiremo il provvedimento, puntando a sequestrare la merce piuttosto che a multare. Poi, in televisione, il battibecco, il vaffa di Salvini alla Morani, ad Alessia Morani, andata in onda l'altra sera su un canale della RAI. Banda dei distributori, furgone a riete, sventra la cassa. Guardate che roba, guardate la fotografia, come hanno ridotto questa colonnina della benzina. Colpo nella notte, in strada Montefeltro, danni ingenti, il gestore annuncia che rimarrà chiuso per una settimana. L'allarme è stato dato da un camionista che dormiva nell'area di sosta, all'opera tre individui con accento dell'est. Altre fotografie sul messaggero che mostrano invece il lavoro che si sta ultimando al Palace Adriatic Arena. In questi giorni si lavora per ospitare l'imminente sfida di Coppa Davis tra Italia e Svizzera. Ma l'Adriatic Arena diventa sempre più internazionale, scrive il giornale, perché dopo la Coppa Davis si torna ad ospitare i primi di aprile, la tappa italiana della World Cup di ginnastica ritmica. Sant'Angelo, Sant'Angelo in vado, si ferma oggi per dare l'estremo saluto, l'ultimo saluto a queste due splendide bambine. Nel pomeriggio di oggi, l'ultimo saluto a Jennifer e Arianna, morte nel terribile incidente di due settimane fa a Fermignano. Il sindaco Bravi ha proclamato per oggi il lutto cittadino, il papà è stato appena dimesso insieme all'altro figlioletto di dieci mesi, la mamma invece è ricoverata a Sassocorvaro, potrà vedere i ferretri in ospedale. La pagina di Fano invece apre con l'inseguimento del ladro e la sua cattura, la donna è riuscita ad afferrarlo per un braccio, ma l'immigrato l'ha strattonata, la proprietaria della tabaccheria, probabilmente l'avrete riconosciuta, siamo vicino a Via Garibaldi, in fondo al corso, Giada Rodeghiero, titolare della tabaccheria di Piazza Costanza, è riuscita a mantenere il sangue freddo e ha inseguito l'uomo che aveva rubato nella sua tabaccheria fino a farlo catturare. Poi la Rocca Malatestiana, la Rocca Malatestiana uscirà dal limbo, sarà messa a norma e potrà diventare un contenitore di eventi, una nuova campagna di lavori, completerà il restauro che era partito, iniziato nel 2003. Poi la politica, né assessore né consigliere, il prossimo segretario del PD fanese non dovrà avere incarichi amministrativi, quindi non potrà essere assessore e nemmeno consigliere comunale. Il tema è stato discusso alla riunione di segreteria, a cui hanno partecipato una quindicina di dirigenti. Caccia invece ai complici del rapinatore, che l'altro giorno hanno bloccato una coppia di anziani ultraottantenne, in particolare il lui di questa coppia, un anziano, che si era appena sistemato in auto e stava ripartendo con la moglie a fianco, è stato bloccato da un uomo di un terzetto, di un trio, che è stato preso. Adesso l'interrogatorio del tunisino, che è già in carcere, potrà fornire dettagli significativi agli inquirenti per prendere anche gli altri due. Niente gettone invece di presenza ai furbetti del comune, per riceverlo bisognerà presenziare ad almeno la metà degli argomenti da trattare. Parliamo del gettone di presenza per quelli che appunto partecipano al Consiglio Comunale di Fano. Andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano. Entro maggio installeremo altre otto telecamere. Parla il comandante della Polizia Locale di Fano, Giorgio Fuligno, sempre più determinante la videosorveglianza, il comandante spiega come saranno tutelati i varchi di ingresso alla città. Gli impianti verranno attivati lungo la bretella di Via Mattei e nella zona di Ponte Metauro. E per la Lega Nord gira gente che ti può scannare per 10 euro. Questo è il risultato, secondo la Lega Nord appunto, di una immigrazione incontrollata e delle pene incerte. Nonostante le rassicurazioni di prefetto questore, è evidente che nessuno qui è più tranquillo. La Rocca potrà ospitare 800 spettatori. Un sopralluogo al monumento, illustrati i lavori di recupero in tre stralci a partire dalle uscite di sicurezza. Mentre viene restaurata la Rocca, in municipio, dopo la pioggia, continua a cadere l'intonaco. Peggiora dunque la situazione di degrado all'interno del Palazzo Comunale. Le recenti piogge hanno aumentato, infatti le infiltrazioni dei corridoi negli uffici del piano superiore, provocando addirittura la caduta dell'intonaco. A rischio anche i nostri ospedali, sindaci di Pergolo e Urbino, contro il Partito Democratico e le sue riforme, cancellato il diritto alla salute. Se il nostro nosocomio non ha seguito le sorti degli altri, è grazie ai pergolesi e all'amministrazione. La pagina di Pesero, legge speciale, la musica può sognare. Priorità e strategie di intervento, ecco che cosa si aspettano le massime istituzioni, i cittadini, cittadine, dal disegno di legge di Camilla Fabri. A Senigaglia ladri in un capannone, sono stati portati via degli utensili, il giovane invece bloccato per il furto nella cassaforte dell'hotel, è stato denunciato anche per ricettazione, è stata recuperata anche la refurtiva. Chiudiamo con il resto del Carlino, anche qua la pagina di Fano, la città si riprende la rocca malatestiana, via le barriere e capienza dei saloni aumentata, brevi lavori per due nuove uscite di sicurezza, tolto il limite delle 99 presenze. Il sindaco ringrazia la sovrintendenza, qui vedete Simona Guidi nella fotografia, ringrazio la sua sensibilità, ha detto il sindaco, ci è sempre stata vicina in tutta la fase di progettazione. Derubata e strattonata una tabaccaia, lei lo insegue, insegue il ladro, lo fa catturare, aveva preso 40 euro, arrestato per rapina dalla polizia. La quarantenne vittima del furto, sulla volante, a bordo della macchina della polizia, con gli agenti, riconosce infatti il senegalese. L'intervista a Alberto Berardi. Vi saluto e vi giudico, addio con polemica. Giunta a Guzzi, dice Berardi, è stata la peggiore, quella di Seri invece la migliore. Il professore Lascia, la vicepresidenza della fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Il grande errore è stato non unirsi con Pesaro. Saremmo stati, dice Berardi, più forti. E per un mese Alberto Berardi è stato anche sindaco. Alberto Berardi ha 72 anni, è entrato in fondazione nel 1989 ed è socio a vita. Per un mese, lui esponente del Partito Repubblicano Italiano, è stato anche primo cittadino con la caduta del sindaco Claudio Mazzoni. Allagamenti da Marotta, abbiamo trovato la soluzione. L'assessore ai lavori pubblici e il vice sindaco Alvise Carloni parlano dei lavori, uno scolmatore a valle, a salvaguardia delle case. La società autostrade però ci aiuti. L'ultima pagina è la storia, la storia di un uomo che di professione fa il controllore sugli autobus. È una professione, direi, non semplice, soprattutto in questo periodo. Il titolo è questo. Con me, chi non ha il biglietto, non sale. Uguccioni, Massimiliano Uguccioni, in questa fotografia, e la sua esperienza con i portoghesi, cioè quelli che non pagano e viaggiano a scrocco, quelli che viaggiano gratis sugli autobus, a qualcuno ho fatto anche 20 multe. E, parlando a proposito di multe, si aggira intorno ai 50 euro, qualcosa anche di più. Ho il dovere di rendere giustizia, dice lui, a quelli che viaggiano regolari. Poi ricorda anche di un tipo, tra le tante vicende, tra i tanti aneddoti che un autista, che un controllore può fornire, e certamente ce ne sono tanti, il Carlino questa mattina ricorda e sottolinea, per esempio, quel brasiliano che a un certo punto si è spogliato tutto nudo per dimostrare a lui, a questo controllore, che non aveva con sé nemmeno uno spiccio. Insomma, storie di vita. Noi ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito Occhio ai giornali. Vi auguro un buon sabato. Noi ci rivediamo questa sera alle 20.30 con l'edizione Flash del telegiornale. Mentre la rassegna torna lunedì mattina puntuale alle 7.30. Vi auguro, dicevo, un buon sabato e anche una buona domenica. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.